Raga ma che è? Cambiamo subito Et voilà! Oh, fatta la barba Sono a posto, raga Ricominciamo a fare i video sul serio, raga È incominciato il periodo dei video Aspetta Ah, raga, bella! Allora, no, scusate, scusate, raga Intro per ricominciare La intro per ricominciare bene Benvenuti ragazzi, benvenuti su questo nuovo video Sono Eddie, benvenuti sul mio canale Benvenuti ancora dopo tre mesi Tre mesi, è passato un sacco, raga Mi siete mancati tantissimo A me manca tantissimo fare i video Infatti non vedo l'ora di ricominciare Oggi è il 21 di ottobre, raga E adesso è arrivato il periodo Mi sono fatto la barba, raga Come sono fatto la barba E' arrivato il periodo dove Dove mi piace fare video Dove ho un sacco di idee E per, allora, sponsorizzazione non è vero Però se io ho fatto quella clip là Mi sono andato a far barba con questo qua Raga, a maschietti Se vi serve un coso utile e veloce C'è anche Philips One Blade Su Amazon Vi lascio qua il link Rasa tutto I peli della fascia, del core Vabbè, quello che volete Raga, allora, come state io? Come sto? Io sto alla grande Ho avuto un periodo un po' di down Ma adesso se parte proprio giù Su, su, giù Su, su, proprio su E ho delle cose da dirvi qua Ho proprio il computer Ho anche la seconda camera Ciao, raga E forse ho due camere Non lo so Però ci provo a fare Questo video proprio bene Già, se mi fanno le cose Mi fanno le bene, no? Eh, che cazzo E, allora, raga Ho un po' di cose da dirvi qua Allora, il primo punto era salutare Come, chiedervi come state Ma, vabbè E, ma, allora E, il secondo punto è Dirvi quali nuove idee Quali nuove rubriche Perché ci saranno nuove rubriche Non si, non, non nuove Che non è che invento Il teletrasporto Ma farò un po' di rubriche E parlerò un po' di tutto Parlerò di sport, di moda Di outfit, di tutto Perché, diciamo che Dall'estate scorsa Cioè, da quest'estate Ho cominciato a un po' A piacermi la moda A piacermi la moda Quindi parleremo un po' di outfit Di quello che Come il video delle scarpe È uguale Ma è in modo un po' più ironico Un po' più divertente Non sempre seri E poi Dovevo rannunciare anche Dei video Che usciranno Tra un po' E, perché appunto Vorrei ricominciare A fare i video Di video Allora Voglio parlarvi un po' Di tre video che usciranno Il primo che dovrete aiutarmi Voi A realizzarlo Che sarà La giornata Che Diciderete voi Per me Le cose Cioè Mi metto i sondaggi Uno o l'altro E questa sarà Voi Diciderete la mia giornata Quindi iscrivete Sì iscrivetemi Che sbaglio a parlare Scusatemi Ma è tre mesi Che non parlo Davanti alla telecamera Quindi scusatemi Allora Se mi seguite Su Edi Trattino Basso Bombe Su Isam E vi Potete Votare E quello Che uscirà Uscirà Tipo Andarmi a fare la doccia O farmi la doccia Col fango Quelle sono due scelte E dovete Scegliere E ovviamente Spero che Vabbè Nuove idee Chi sarà Dovete guardarlo Per scoprirlo E poi ci saranno Noi video di viaggi Speriamo Viaggi Che farò Dopo il mio Compleanno Spero Per Natale O andrò in montagna Da parte Quindi vi porterò Con me Quindi Mi dispiace Allora Poi ci sarà Un video Abbastanza Importante Che è il mio Compleanno Perché in questi anni Volevo fare sempre Un video Durante il mio Compleanno Quest'anno Compio 20 anni Non è come Diciottesimo Ma è importante Diciamo E tutti i Compleanni Sono importanti Ma diciamo Che il 20 Un quinto Della vita È importante E quindi Pesteggiamo E vi farò Vedere cosa farò Nel giorno Del mio Compleanno Che oggi Quest'anno È venerdì Quindi Andiamo Quindi Perfetto Poi appunto Farò Dei viaggi Speriamo Qua in Italia O all'estero E quindi Farò Di video Anche L'anno prossimo In 2022 Farò di video Nei viaggi Poi Poi Ci saranno Delle rubriche Non nuove Che Non l'avete Già viste Però Portate Il mio Modo E quindi Raga Questo Un video Un po' Riassuntivo Come la mia Rubrica È di Parlare Alta Perché Non parlo Così Di solito Non parlo Così Alta voce Perché Sennò Muoio Però Vabbè Raga Allora Seconda telecamera Ti saluto Non T'ho mai Guardata Però Mi dispiace Ma Così Vi porterò Questo video Subito Quello Monto Subito E ci sarà Appunto Un video Dove vi mostrerò Come io Monto Come è La mia Idea Di video Però Nel prossimo Video Quindi Se vi è piaciuto Questo video Mettete Mi piace In su Il pollicione In su Come una volta Si diceva Un pollicione In su Se Se Volete Un po' Dire Come Come state Che storie Volete Raccontarmi Scrivetemi Sotto Qua I commenti Se Avete Quella Fatto Iscrivetevi E ci vediamo Nel prossimo Video Bella Ragazzi